amici ma soprattutto amici bianconeri buongiorno ragazzi buongiorno mentalità del real madrid pazzesca no del real madrid dei tifosi scusate del real madrid perché il tifo il veramente il motore il motore di una società sono i tifosi il motore di una società sono i tifosi perché ti spingono a fare e dare sempre di più un real madrid che vince 12 14 15 16 venti non so quante cazzo dicendo che ha vinto un real madrid che è il primo in campionato un real madrid che se non sbaglio che ha vinto la coppa di spagna se non sbaglio un real madrid che in corsa ai champions ieri fa una partita di merda non gioca bene gioca in modo difensivo non dico come allegri ma quasi come allegri e lì si merita lì si crea lì si amerava fosse anche il passaggio del turno anzi togliamo anche forse cosa fanno i tifosi fischiano 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 ragazzi ieri teleuronista diceva bordate dei fischi al bernabbeo c'è bordare significa bordare cico ma come fa se abbiamo vinto quello che abbiamo vinto non ci possiamo neanche rilassare un minuto tra virgolette uno può pensare perché qui siamo abituati così invece quelli no quelle sono persone che vogliono vincere si vogliono divertire quando si gioca a calcio e io devo pensare ancora a branchini che dice che allegri dovevo andare ad allenare la madrid ma cosa c'è è come se gli dici ero così fede che è gay c'è qualcosa di impensabile 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 assurdo ma ripetisco la mentalità di questi tifosi e la vera e la vera e la vera benzina e la veli il segreto invece noi qui facciamo schifo al cazzo ci sono partite di merda partite ci sono tutte le partite sono non c'è resta forse una mezza e noi e noi fischiamo e noi non fischiamo noi addirittura facciamo il coro uno uno di noi allegri uno di noi perché siamo mediocri perché siamo provinciali perché veramente ormai ripetisco con questo personaggio siamo ridotti a uno straccio a una mappina siamo degli sciacquolattughe non abbiamo più niente a che vedere con il nome io venez niente ma ripetisco ormai non ci ormai no da me non mi interessa più nulla nella maniera che sono me l'entusiasmo mi è finito mi è passato e quindi ormai si vive alla giornata quando ci sono le potete mi chiedete le live le live non riesco più a fare le live non ce la faccio più le live non ce la faccio più a fare perché non riesco a ti fare mi dispiace non riesco a ti fare io sono sincero sono onesto non è perché voi sempre rompete i coglioni almeno qualcuno di voi rompe i coglioni con il fatto che la via non siamo a prescindere ma non è così non è così se c'è una compagna se c'è una moglie che ti tradisce non la puoi amare a prescindere anche se la madre dei due figli non si può amare a prescindere non è vero a un certo punto poi ti stanchi perché vedi sempre che questa società non vuole cambiare questa società non vuole non vuole fare quel passo giusto si accontenta di queste puttanate si accontenta dei piazzamenti champions avete sentito dei rossi di cosa dice in conferenza noi siamo dai champions ma le motivazioni nel calcio sono la cosa fondamentale noi invece invece no noi siamo da quarto posto ma avete sentito anche di livio e no caro allegri alla livello si vengono gli scudetti non si ci può nascondere ma di che stiamo parlando ma da dove la guardi guardi questa storia fa puzza da tutte le da tutti i lati ma come si può ancora e poi mi dite a me ma non esiste al mondo non esiste al mondo non c'è più nulla che mi lega il passato mi lega il passato mi lega e mi dite perché parlo dell'inter ma di che cosa devo parlare io voce semplicemente parlo di calcio se ci fosse il napoli come lo scorso anno parlare del napoli se ci fosse il mio come due anni fa parlare del milan ma parlo di calcio e non sto calcio non ne fa più non ne fa più e ripetisco io ieri sono rimasto semplicemente entusiasta di questo pubblico che fischiava questi grandi camioni questa grande società perché se noi avessimo un quarto delle cimenti lì che noi ci sederemmo sugli allori non so per quanto tempo noi per una semplice c'è muslimina nel 2000 e nel 96 siamo seduti sugli allori non so da quando non si conoscono protoeste non si conoscono niente noi ci sono semplicemente tifosi che scendono a patti con la società per non fischiare allegri perché questa è la verità tifosi venduti curvaiole venduti mi dispiace ma questa è la verità perché se ci fosse un po d'amore per questa scuola per questa società per questa squadra i fischi sarebbero impressionanti ci sarebbe l'assedio alla condenanza perché non si può vedere una squadra giocare così non si possono sentire i giornalisti ancora cercare scuse ci sarebbe la rivoluzione la rivoluzione francese niente in confronto a quello che dovrebbe succedere di fronte a questo da questo scempio che vediamo domenica per domenica per queste conferenze stampa ma di che stiamo parlando ma di che stiamo parlando noi abbiamo raggiunto vetti di metodicrità ormai impressionanti siamo una squadretta una squadretta di merda ma non lo dico con tutto il cuore bordate di fischi arriva al bernabèo bordate di fischi ma come portate di fischi ma io portate di fischi perché non riuscivano a uscire perché lì pensi aggrediva perché poi Ancelotti parliamoci chiaro non è che sia un grande allenatore a me ha vinto quello che ha vinto ok ma a me Ancelotti non mi fa neanche impazzire però ripetisco il concetto la mentalità nonostante poi lì si sia passato in vantaggio con questo gol di Vinicius con questa azione di contropiede poi il pareggiato dell'ipsia e bordate 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 e qui siamo a riammatriti qui vogliamo vincere e convincere che spettacolo ma che spettacolo ma che spettacolo mi dispiace dove noi dovremmo prendere esempio da queste da queste situazioni penso che ormai sia una una battaglia persa ancora ancora si deve si deve decidere acqua la ancora sento frasi di circostanza di giunta ma non ci sono neanche frasi di circostanza in questo caso non c'è neanche rispetto in questo caso si fa subito dritta alla 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 meta e si dice subito sia abbiamo abbiamo 15 punti c'è veramente non c'era spero non ci aspettavamo questi 15 punti di stacco nell'anno in cui non ci sono le coppie si va subito dritti ma così è questo politichese così è questo questo del gv star con le frasi il il nostro leader la punta di diamanti e questo portarlo allo stadio voglio fare le foto le quattrocento sei manchine queste mille vittorie ma vanno da fa un culo andate a fare un culo andate a a fare un culo si deve parlare subito chiaro esplicito perché bisogna alzare il culo dalla sella bisogna alzarsi non c'è bisogno di essere così perché poi qui dice lo sta prendendo per culo ma non mi interessa niente se lo sta prendendo per culo queste frasi bisogna parlare schietti subito netti ma come vi permettete di essere 15 punti dall'inter come vi permettete nell'anno che siete senza coppia vergognatevi questo bisogna dire non è che bisogna accettare le parole anche di branchini che parla di società in etta con questo con questo compaggine società ma come ti permetti ma ormai ci facciamo pisciare cagare e fare in testa da tutti e da tutti vergogna vergogna un abbraccio ma si ci è ingazzati fino alla fine all'egria 8 grazie a tutti